buon ciao a you eccoci qua con il nuovo sboosting finalmente è uscita l'espansione del 2020 con grande hype sfada e scudo yes sfida strategica apriamo questi due sined pack due o non c'è 23 lo vediamo ok ma in base ok dai vai vai raga rilascia delle buone mani di fra e dell'amico mantis chiedo scudo parlando di spade e niente possiamo iniziare siamo sposto di qua uno così iniziamo facciamo con calma mi fanno sempre più duri da aprire e allora andiamo a vedere il contenuto del si led pack che c'è di bello così a qui viene introdotta la nuova meccanica la b e la b max che poi la b sarebbe quasi come le gx le carte gx e le di max sarebbero come le alleate vogliamo proprio metterla solo che si evolvono non sono similitudine si si evolvono non sono base come l'altro come le alleate le alleati non si evolvevano sono solo base da quel che allora come possiamo vedere aiuti si ti zoom ok metti un po più sotto ok ecco che le carte sono tutte ovviamente con il layout nuovo anche se molto simile però le auto abbastanza cambiato soprattutto la parte 18 e vediamo che abbiamo trovato come carta promozionale che dentro ogni pack c'è una bustina da composta da ve le conto subito perché non ricordo 23 carte 22 carte 22 carte di base per poter fare il prelise per poter fare il torneo è una carta promozionale che in questo caso è stata cin 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 e andiamo a vedere bene vediamo soltanto le promo poi le altre ne faremo nel box lo sbusting delle carte migliori eccetera devi scartare una carta che in mano che una carta in mano per usare questa abilità una sola volta durante il tour durante il tuo turno puoi pescare due carte normale normale va bene altri giochi non li vedremo mai così no va bene snorlax levò a roma cerca nel tuo mazzo un pochino evoluzione mostrano raggiungere le carte che in mano fortissimo poi mischiare le carte il tuo mazzo va beh questa è la carta perfetta per caramella rara e prendi il pokemon fai caramella rara e si ha posto se il pokemon ha consegnato a questa carta viene messo capo da anni infitti eccetto dall'avversario da un attacco dell'avversario pesca fino ad avere sette carte in mano e ai pokemon e così si meri hop i vari la varie base per fare il mazzetto perché deve avere una base gru chi toach che toach che rilabu rilabu mincino la preevoluzione ovviamente una ball finalmente per per cercare i nostri pokemon questa scarti una carta e cerchi un pokemon base è vero base si puoi giocare questa carta solo se scarti un'altra carta che in mano si cerca nel tuo mazzo un pokemon base per aggiungere la carta che in mano questo lo fa rimischia ovviamente poche bimbo zigzagoon fortissimo scarta le carte che in mano pesca sette quindi con zero carte tv lei scarti pesca sette vabbè pokemon è differente e vabbè leva la varia la varia vabbè la base le maniere carte della base e ho detto ce ne sono più mi sa due diverse due differenti poi andiamo ad aprire le ma camilla non faceva la stessa cosa non mi ricordo cosa camilla era praticamente c'era un altro professore che facevo erogo identico scarta pesca sette al posto di quella è stata messa camilla che faceva però non diceva scarta la tua mano diceva scarta la tua ma rimischia la tua mano e pesca 6 non 7 e qui vediamo che c'è qualcosa già quindi ci sono nell'inquadratura si si vede raga i nomi scusate ma con i nuovi scutle su ciotle su ciotle raiorn rookie di crebbi gruchi bum 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 blip chi blip bug è è è è è è è la prima di il primo pokemon b è Morpeco B Aspetta Ok sei un po' zoomato Morpeco B ci sono al centro? Si si vede tutto Scintilla E' un pokemon elettro 170 PS Quando muore l'avversario prende due Quando viene messo capo all'avversario prende due premi Un'energia In colore 20 danni Scintilla questo attacco infligge anche 20 danni a uno dei pokemon Nella panchina del tuo avversario Vabbè non si applica debolezza e resistenza Nella panchina Con due energie tuone Una in colore Fa ruota elettrica tra le 150 Scarto una carta Scarto un'energia da questo pokemon Se lo fai scambialo con un'autopanchina Quindi attacchi e te lo proteggi Portandolo dietro Energia erba Blocca amici che ritroviamo Kingler e Ryor Andiamo avanti con Vediamo Sheldr Krogank Silicobra Silicobra Mincino Volpix Carino Faccio una cosa Hop 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 Chi Hop Grapplocked Mamma mia che figlio Grapplocked Energia Scambio Grappi Dicevi Grappi Sì Sì No no è buio Dov'era Sì è l'8 E l'8 Ferratorn Rabut Rabut che sarebbe l'evoluzione del primo starter Dello starter di fuoco Che non so il nome Non li conosco tutti Red Rabut Parniard Sizzipepe Sizzipede Sizzlipede Jumper Globopus Ah questa è la prima evoluzione di quello del lottatore Cotony Meot di Galar Io Meo No No Tiebull Carino Energia Raior Ah le energie ovviamente sono nuove Hanno aggiunto Si vede Hanno aggiunto il Cosa Hanno aggiunto diciamo Questa questo effetto D'entro l'energia Laura La loro risa più semplice Come Laura D'Espondo Sì Eldegoss E palloncino Il costo di ritirata dei fuoco Ancoglionato questa carta Ancoglionato questa carta Ridotto di due Che poi Che le rosse Il palloncino Non i riferimenti Ma mi sta arrivando Il manga nuovo Chi è Di Steven Di Steven Hutut Scrobunny Ah Scrobunny Questa era Era la prima evoluzione Di quello che ho detto prima Pikachu Sinistia Sinistia Vulu Gruki Centiscorch E' l'evoluzione di centipede Di prima Il gioco Della sala giochi Energia Un'altra fortuna Un'altra fortuna Un uovo Mantain E martello Demolitore Ah no Di rompente Questo sì E' sempre quello Lancia Un uovo De schizia Ok E' sempre Una ristampa E il primo L'abbiamo fatto fuori Trovando Una B Andiamo avanti Vediamo cosa possiamo trovare Io metto tutti insieme Andiamo avanti Sbustiamo Il secondo Secondo Prelease pack Vediamo se troviamo La differente Il nuovo pacchetto Ok Abbiamo trovato Vabbè la promo E' quasi sempre Differente Rillaboom Bumbum Leggiamola Una sola volta Durante il tuo turno Puoi cercare Nel tuo mazzo Fino a due carte Energia erbe Segnarla Uno dei tuoi pokemon A uno dei tuoi pokemon Ah quindi non in panchina E basta Poi rimisca le carte Del tuo mazzo Inizia Se è forte Questo è il primo piano americano Basta Apriamo Vediamo Cosa troviamo Tentene 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 Tentete Qualcuno Si potessi che Giuseppe Beh Allora Arrilla Boom Snorra Ah Abbiamo trovato lo stesso cents Evo Roma Fortune Nuovo Pokebimbo Ricerca Accademica Heroes gru chi tru chi sono che qui in più in più abbiamo trovato anche l'evoluzione nella promo e niente poi la stessa busti e la c'è le carte sono le stesse spero non siano tutti uguali e andiamo con i pacchi andiamo con i pacchi è trovato la mia prima di giuse con la sottospecie di altro pikachu con l'olio di caccia di uno sacco snom gru chi scelter me will ponita di gala che bello ponita di gala è proprio bello vediamo credo che è bello vabbè dai figo mio non si può vedere iperpozione bello bella l'olografica vediamo questa zoomiamola questa bella rarità che forte come ora ora ancora un guru una sola volta per turno durante il tuo turno puoi scambiare una carta che in mano con la prima carta del tuo mazzo quindi se riesce a vederle comoda ad energia ciò che fa chi blocca amici e bacca recupero per questo l'ultimo la seconda no no per il terzo cosa l'ultimo no delle bustine alla seconda seconda zinzagoom di gala un nome gru che scelter cincio mas dei energia ferrotor it more piatto di metallo assine un pokemon metallo in panchino una carta energia da tapila dei riscarti cosi ah non male brutto questo free spec per il momento lei li abbiano trovato almeno una b qui una b max ci facciamo croganc miniano di gala no anche no scrobanni sinistri maractus rookie di snorlax è raro è raro energia stamp fisk di gala ma è andato un'altra forma qui non era un po come inutile i per pozione e la recluta del team yell che sarebbe della generazione nuova il team di spade scudo si è perché non ho mai sentito mi informerò mi informerò se youtube ci inizia a pagare qualcosa comprare comprare nintendo e informare la gente crookie kufant baltoink c'è qualcosa cinci cinciao mi sembrava diverso il nome se vabbè ah si questa è la stessa di prima non la pronuncio più c'è 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 una b mamma che brutti il secondo brutto che trovo non mi piace rosarid e cramorant b un po' piscinele mamma mia cramorant si può guardare un'energia catturbecco cerca nel tuo mazzo fino a due carte aggiungi le quelle che hai in mano poi rimischia perché specifico che devi rimischiare tre energie in colore scarta tutte le energie da questo pokemon questo attacco invece di 60 danni è uno dei pokemon del tuo avversario questo è forte in panchina 160 sono grossi energia duktrio è addetto del centro pokemon è un altro recupero di energia e passiamo all'ultimo all'ultimo non per importanza sono tutti uguali sono tutti uguali le carte che escono per ora ne ho trovate due uguali di mazzetti quelli precostruiti all'interno è un'altra mazza che fortuna se sentite da sotto parole strane a caso più che altro più che strane vabbè cincino ah no no sono diverso che ce ne sono due allora meo bici rotom velox ball ricerca accademica ah ma si trova dentro il professore nuovo si cioè si trova dentro i mazzetti più in realtà eh si è la quella della mia giro la mia farina 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 di sharp di sharp di sharp mincino velox ball pokebimbo pokebimbo zigzagoon zigzagoon codici date tutti. Traffolo, 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 che sennò poi lo perdiamo. Partiamo, vabbè, Psilzilpene, 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 Psilzilpene. Vabbè, Jumper, Globopus, voglio il mazzo di Globopus io. Cotoni, Schutle, mamma mia che bello. Vediamo, Sandaconda, Sandaconda. Stonjourner, che poi di questa c'è pure la versione B, energia, amuleto grande, Seaking e Tuakki. Che belle le energie con questa aura, hanno fatto una bella qualcosa a mettere. Anche se avere lo sfondo come prima era un attimo più bella, perché comunque avevano qualcosa nello sfondo, invece così sono troppo semplici. Per me, per il mio gusto. Sabol, Blipp, 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 Baltoi, Vulu, Joltik, Snom e Tiebul, energia, Biciroto, Drizilpene, Drizilpene, ah l'evoluzione di Sabol e Bisharp. Vediamo, diciamo, una B per ognuno? O una B, ma c'è una per ognuno? Questo è l'ultimo, no, 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 no. Penultimo. Ok, ok. Abbiamo trovato la prima nella seconda bustina, la seconda nella terza, quindi nella quarta. Globopus, io voglio il mozzo di questo. È troppo bello. Goldin, Roselia, Gasly, Avniard, Bit. Bit? Cosa fa Bit? Shaman, Shaman? Ah sì, ne ho metto un pochino in panchino, la cartellina è base alla tua mano. Sì, ma anche no. Cioè. Raichu, energia, Salazol, piatto di metallo. Potenziare i metalli. Soprattutto ora che non ci sono più i Folletto, possono potenziare tantissimo. E Biciroto. Cioè, vabbè, non ci sono più, però... Cioè, non li stampano, però. Eeeh, mi sa che questo... Ce lo siamo giocati. Cufant. Questo è il mio. Dove essere il mio. Salazol. A vero, te l'ho tolta a posto. Bonito di Galar. Mincino. Noctao. Che belle, oh, ma sono bellissime le Olo. Vediamo, zoomiamo questa... Particolarità. Questa... Bella, bella. Molto bella, molto bella. Un cagnolino. Energia. Hitmonchan, sempre belli. Megabon. È lì in un di Galar. E niente, ragazzi, con questo chiudiamo il video. Direi che è andata, non dico benissimo, però... Quindi che impressioni ti ha fatto questo sboosting? Senti, a parte che le carte non le conosco, per il momento mi sono fermato sul fatto che... Su due pacchi abbiamo trovato due mazzetti precostruiti uguali, quindi pensavo che erano tutti uguali. Invece no, ne hanno fatti due, come sempre. È carino. Sono tornate un sacco di carte che erano tipo quelle vecchie, tipo il professore che scarta. C'è una carta, una Pokéball per scartare e aggiungere. Sono tornate un po' di carte vecchie, tipo le Megaball, le pozioni e varie altre carte. I Pokémon... Alla fine non sono nemmeno così male le artwork, ci stanno. A parte le V che abbiamo trovato. Non si possono guardare, che ve l'ho perso. L'ho rubato le V, va bene. E niente, con questo chiudiamo il video. Non prima di ricordarvi di lasciare like se il video vi è piaciuto, di condividere su tutti i social. Più interazioni facciamo, meglio è per noi. A voi non costa nulla. E niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao. Buon ciao.